Quale attività di ricerca il CNR, l'Istituto dell'Inquinamento Atmosferico, effettua nel settore? Quali strategie future potrebbero migliorare l'area nelle nostre città? Siamo qui con l'ingegner Nicola Pirrone, direttore dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del CNR, esperto di inquinamento da mercurio e di politiche ambientali internazionali. L'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico afferisce al Dipartimento Terra e Ambiente del CNR e possiede più di 130 dipendenti, costituendo uno degli istituti più grandi dal punto di vista numerico del Dipartimento. Quali sono gli ambiti tematici all'interno dei quali viene condotta l'attività di ricerca? La mission dell'Istituto è soprattutto studiare tutti i meccanismi che determinano un depauperamento della guarda dell'aria, quindi le problematiche connesse con le emissioni industriali, le emissioni di inquinanti da traffico veicolare, tutte quelle attività antropiche che vanno a deteriorare la qualità dell'aria che respiriamo. Oltre a questo l'Istituto fa tante altre cose, progetta e sviluppa sistemi osservativi a scala regionale globale per inquinanti persistenti come il mercurio, ma non solo il mercurio, poi sviluppa tecnologie per il monitoraggio atmosferico e metodologie analitiche nuove per caratterizzare gli inquinanti in atmosfera, perché conoscere le caratteristiche degli inquinanti significa conoscere i meccanismi di impatto sia sugli ecosistemi che sulla salute dei cittadini. Quali sono le attività di rilievo che l'Istituto conduce in ambito europeo e internazionale? L'Istituto è uno degli istituti leader in ambito europeo, in quanto siamo coinvolti in molti progetti europei, sia come coordinatori che come partner, ci occupiamo sia di progettare e sviluppare sistemi osservativi, l'Istituto coordina uno dei progetti più importanti che fanno parte del gruppo Vert Observation, che è il sistema globale di monitoraggio del mercurio, sviluppa tecnologie interoperabili che consentono la fruizione dei dati e quindi l'open data, tutta la gestione dei big data. Facciamo una grande attività di trasferimento delle conoscenze alla Commissione europea da vari enti internazionali come UNEP e convenzioni internazionali, come la Convenzione sull'inquinamento atmosferico, la UNEC, Long Range Transport of Air Pollutant, dove rappresentiamo l'Italia in questi contesti internazionali e quindi contribuisce al trasferimento delle conoscenze, alla messa a punto di strategie integrate per ridurre l'inquinamento atmosferico e quindi migliorare la qualità della vita, quindi aiuta a sviluppare e ad implementare le politiche europee e internazionali sulla qualità dell'aria e la qualità ambientale in generale. Quale attività ritiene siano strategiche per lo sviluppo della ricerca sia all'interno dell'Istituto che per l'intero Paese nell'ambito dello studio sull'inquinamento atmosferico? L'Istituto è molto impegnato nello sviluppo di tecnologie innovative per il monitoraggio atmosferico, uno dei problemi che si è posto negli ultimi anni sono i costi di investimento e di gestione dei sistemi di monitoraggio atmosferico, soprattutto quando si parla di sistemi osservativi a scala globale dove è necessario condurre misure in continuo in posti molto remoti, dove è difficile anche arrivarci e quindi è difficile far arrivare continuamente tecnici per il supporto e la manutenzione degli strumenti, quindi l'Istituto da qualche anno ha avviato una nuova linea di ricerca sulle nanotecnologie per sviluppare sensori avanzati per il monitoraggio atmosferico, poi abbiamo attività molto avanzate per sviluppare tecnologie per il monitoraggio delle emissioni industriali in continuo e la caratterizzazione dei microinquinanti organici come di osine, furani e altri inquinanti di grande interesse per le politiche europee e internazionali, per il loro impatto che hanno sulla qualità degli ecosistemi e sulla salute dei cittadini. Ma a questo va aggiungersi lo sviluppo di tecnologie e piattaforme per la condivisione dei dati ambientali, quindi sistemi molto avanzati di interoperabilità ambientale che consentiranno ai policymaker e stakeholder di usufruire dei dati che vengono prodotti dai sistemi osservativi e di estrarre le informazioni al loro necessario. Quali strategie future potrebbero migliorare l'aria nelle nostre città e quale occorrerebbe adottare in ambito più ampio comunitario internazionale? Più volte ho avuto modo di parlare con amministratori locali, ma anche a livello ministeriale, quale potrebbe essere il modo per ridurre la pressione antropica, perché la qualità dell'aria dipende molto dalla pressione antropica e dalle varie attività che l'uomo, noi cittadini, esercitiamo sull'ambiente. Sicuramente nella lista delle priorità il sistema di gestione delle aree urbane, come il traffico veicolare, è uno dei punti importanti su cui è necessario incidere e come lo si può fare? Per ridurre il parco circolante occorre aumentare l'utilizzo dei mezzi pubblici, quindi occorre migliorare in termini infrastrutturali le nostre città, fare in modo che i cittadini utilizzino sempre di più i mezzi pubblici e lasciano a casa le auto. Questo consentirebbe di migliorare molto la qualità dell'aria. Un altro punto, un'altra pressione antropica molto importante per le aree urbane sono sicuramente i sistemi di riscaldamento. Ultimamente c'è stata un'impernata nell'utilizzo delle biomasse, che come sappiamo molto spesso rappresentano anche il trend del 50% del PM10 che noi misuriamo nelle città italiane e che spesso leggiamo sui giornali, sforano i limiti previsti per legge. Quindi occorre anche per quanto riguarda il condizionamento delle abitazioni civile utilizzare il più possibile energia di origine meno impattante. Sicuramente la strategia è questa, cioè ridurre l'azione antropica dell'uomo sulle proprie città.